La notte degli Oscar è ormai alle porte, siamo tutti presi dall'entusiasmo, dalla trepidazione per capire quali film, quali artisti verranno premiati, quindi ormai davvero siamo in fibrillazione, quella di oggi sarà però una prima di due puntate che in qualche modo mi permetteranno di smorzare un po' gli entusiasmi, in maniera in realtà giocosa, dando quasi ragione a tutti coloro che dicono gli Oscar non hanno nessuna importanza, che gli Oscar non vanno a segnare la carriera di un artista, che la vittoria di un Oscar non è necessaria per poter ovviamente consacrare un attore, un artista, un regista a quello che poi effettivamente può diventare nella storia del cinema, quindi non è la vittoria di un Oscar che fa di un regista un grande regista ed infatti oggi vi andrò ad elencare 15 registi che sono stati candidati agli Oscar ma che di Oscar per la migliore regia in realtà non ne hanno mai vinto neanche uno. Quindi questo è il tenore del video di oggi, prima di iniziare io vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, è il modo più semplice e rapido che avete per supportare il canale, per aiutarmi a farlo crescere ancora di più, se magari siete capitati qui per caso o se non siete ancora iscritti per quanto voi guardiate i video, beh iscrivetevi, poi vi ricordo anche che per far arrivare questo video a quante più persone possibili se lo avete apprezzato lasciate un like, commentatelo anche con quelle che sono le vostre considerazioni sull'argomento che andremo a sviscerare oggi, condividete il video ovunque vogliate e poi vi ricordo che vi aspetto anche nella mia pagina Instagram, nella mia pagina Facebook, nel mio canale Telegram trovate i link qui sotto in descrizione. Chiusa questa piccola parentesi promozionale come sempre ad inizio video, addentriamoci però in quello che è il mare magnum delle tante contraddizioni degli Oscar, una cerimonia alla quale io tengo particolarmente, c'è da dire, è una delle nottate più interessanti, più divertenti, c'è da dire, anche di intrattenimento nell'ambito del mondo cinematografico, però bisogna anche dare atto a tutti coloro che dicono che gli Oscar non sono effettivamente necessari per poter stabilire lo status di un artista, sicuramente aiutano però c'è da dire anche, sicuramente la vittoria di un Oscar va ad impreziosire la carriera di un attore, di un attrice, di un regista, ma di chiunque sia coinvolto nel mondo del cinema, eppure però ci sono dei registi che per quanto abbiano ricevuto diverse volte la candidatura a miglior regia, in realtà la statuetta come miglior regista non l'hanno mai vinta, eppure sono dei grandissimi registi ed infatti oggi ve ne andrò ad elencare ben 15, vi andrò ad elencare quello che è il numero delle candidature che hanno avuto e chiaramente nessuna di queste però si è mai trasformata in Oscar, si è mai trasformata nella vittoria di una statuetta, ribadisco il fatto che il, come dire, questo video, innanzitutto è un video giocoso, è un video scherzoso, ci mancherebbe altro, tra l'altro vi andrò ad elencare davvero dei signori registi, e voglio precisare il fatto che andrò a prendere in considerazione soltanto la candidatura come miglior regia, perché faccio questa precisazione? perché alcuni di questi registi in realtà l'Oscar lo hanno anche vinto, lo hanno vinto però per altre categorie, sceneggiatura, montaggio a volte, anche come miglior fotografia, quindi sono dei registi che in carriera in alcuni casi l'Oscar lo hanno anche portato a casa, ma non per la loro specifica categoria, non per la regia. Allora, iniziamo innanzitutto con Spike Lee. Spike Lee è un regista che nel corso dei decenni, mi viene da dire, ha anche fatto discutere di sé, è un regista anche particolarmente impegnato con quelle che sono le sue opere, è un regista che ha ricevuto soltanto una candidatura come miglior regia, tra l'altro per quello che è uno dei suoi ultimi film, cioè Black Clansman, ma non ha mai vinto la statuetta, quindi ha ricevuto soltanto una candidatura in una carriera, tra l'altro ultra decennale, purtroppo sino ad ora la statuetta come miglior regista non è riuscita a portarsela a casa. Procediamo poi con un regista che purtroppo, devo dire, con il passare dei decenni è stato sempre di più dimenticato quasi, soprattutto anche nel mondo del web, tra i giovani appassionati, se ne parla sempre di meno, sembra quasi un nome appartenente alla preistoria del cinema, così non è in realtà, perché è un regista che è rimasto attivo fino anche in prossimità a quella che è stata la sua morte, quindi dopo gli anni 2000, ed è Robert Altman, un film, un regista che tra l'altro dovrebbe essere conosciuto soprattutto da chi ama Paul Thomas Anderson, perché Paul Thomas Anderson è una sorta di erede artistico-spirituale, mi verrebbe da dire, di Robert Altman, il quale ha ricevuto in carriera 5 candidature per quanto riguarda gli Oscar come miglior regia, anche in questo caso, senza mai aggiudicarsi neanche una volta l'ambita statuetta, e ripeto, è ovvio che proprio a voler ribadire tutto quello che abbiamo detto, il fatto che Robert Altman non abbia mai vinto un Oscar fa capire che non è sicuramente l'Oscar che va a consacrare la validità, il valore artistico di un regista, ma fra poco avremo dei nomi particolarmente eccellenti. Procediamo poi con un altro grande artista, un altro grande regista che ha scritto a dir poco la storia del cinema, sia a livello orientale ma anche nelle nostre latitudini, ed è Akira Kurosawa. Io credo che Akira Kurosawa non sia da discutere in nessun modo, ha davvero rappresentato fonte di ispirazione anche per tanti altri cineasti che sarebbero arrivati di lì in avanti, negli anni successivi, nei decenni successivi, anche il nostro Sergio Leone per intenderci, eppure Akira Kurosawa, pur avendo ricevuto una candidatura soltanto alla miglior regia in una carriera ultradecennale, la statuetta non se l'è mai portata a casa, nonostante abbia realizzato fior fior di capolavori. Quindi anche Akira Kurosawa purtroppo rientra in questa elite, diciamo, di registi, a volte candidati, ma mai vittoriosi. Procediamo poi con un altro regista che tra l'altro abbiamo ritrovato, diciamo, piuttosto di recente, in quelle che sono gli onori della cronaca cinematografica, con quello che è il suo ultimo film, Napoleon, sto parlando di Ridley Scott. Anche Ridley Scott è un regista che al momento non è stato in grado purtroppo di portarsi a casa la statuetta come miglior regia, Ridley Scott è che nel corso di quella che anche per lui è ormai una ultradecennale carriera partita dagli anni 70, grazie, poi ripeto, anche alla realizzazione di fior fior di capolavoroni, c'è da dire, lui ha ricevuto tre candidature agli Oscar come miglior regia, ma anche in questo caso la statuetta, purtroppo, Ridley Scott a casa non se l'è portata mai. E tra l'altro sono delle candidature che non sempre sono arrivate per i suoi migliori film, c'è anche da dire, quindi anche in questo caso bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare per chi, diciamo, giustamente critica gli Oscar non legandoli necessariamente anche alla qualità artistica di un film o di un artista. Quindi Ridley Scott, tre candidature, zero Oscar. Situazione identica per un altro grande regista che in carriera infatti ha ricevuto tre candidature ed è Ingmar Bergman, un regista, c'è da dire, anche un po' lontano da quelle che sono le logiche commerciali che spesso coinvolgono la cerimonia degli Academy Awards, quindi un regista che nel corso degli anni ha realizzato, anche lui, chiaramente, dei film davvero magistrali, però, pur avendo ricevuto tre candidature, quindi avendo comunque avuto la possibilità di gareggiare per la vittoria della statuetta come miglior regia, in realtà l'Oscar Ingmar Bergman non lo ha mai portato a casa e credo che anche per lui si possa discutere molto poco su quella che è l'effettiva qualità della sua carriera e dei suoi film, film che spesso sono anche non facili da approcciare, c'è da dire, è un modo di far cinema molto particolare, ma stiamo parlando di un artista che ha scritto la storia del cinema, tre candidature, zero vittorie. Procediamo poi con un nome che potrebbe risultare particolarmente doloroso e che, tra l'altro, mi permette di sottolineare quello che ho detto prima, cioè il fatto che stiamo parlando di registi che non hanno mai vinto l'Oscar come miglior regia, potrebbero averlo vinto per altre motivazioni. Stiamo parlando del nostro Federico Fellini. Ora, Federico Fellini, in realtà, nell'immaginario collettivo, viene anche rappresentato come uno dei rappresentanti, viene inquadrato, scusate il gioco di parole, viene inquadrato come uno dei rappresentanti più importanti del nostro cinema, proprio per quanto riguarda gli Oscar. Perché? Perché molti suoi film hanno vinto l'Oscar, ma come miglior film internazionale. Lui, però, è stato candidato quattro volte alla categoria miglior regia, senza però mai avere portato a casa la statuetta. Chiaramente, anche in questo caso, nulla toglie alla carriera di Fellini, nulla toglie anche a quella che è la sua caratura internazionale, perché comunque le soddisfazioni agli Oscar se li è tolti, grazie alla vittoria della statuetta come miglior film straniero, come si suoleva dire prima, eppure lui la statuetta come miglior regia a casa non l'ha mai portata. Quindi anche Federico Fellini rientra in questa cerchia. Procediamo anche con un altro nome illustre, anche qui un nome che c'è da dire, non è che sia in grado di rientrare in quelle che sono le classiche logiche, nei classici ragionamenti di quelli che sono i membri dell'Academy, sto parlando di David Lynch. Anche David Lynch nel corso degli anni e dei decenni ha realizzato dei film che, senza nessun dubbio, possono essere considerati davvero dei grandi caldo, addirittura dei capolavori. David Lynch in carriera ha ricevuto tre candidature come miglior regia, eppure anche lui non lo ha mai portato a casa. E quindi mi viene da dire anche per lui sticarsi dell'Oscar, perché ovviamente non si può discutere in nessun modo quella che è la sua qualità generale e quella che è la qualità generale anche delle sue opere, eppure lui. Tre candidature, zero Oscar. Procediamo con un altro nome, un nome illustrissimo, un nome che spesso viene preso in considerazione per quanto riguarda questi giochini legati agli Oscar, sto parlando di Stanley Kubrick. Stanley Kubrick è un artista, un regista, che in carriera ha ricevuto per ben quattro volte la candidatura alla miglior regia, anche lui in realtà, nonostante in una filmografia come la sua non ci siano dei film brutti, probabilmente perché Kubrick non avrebbe avuto la capacità di realizzare un film brutto neanche mettendosi di impegno, e quindi anche da un punto di vista registico non avrebbe avuto la possibilità di fallire neanche mettendosi di impegno, eppure ha ricevuto quattro candidature come miglior regia senza neanche lui portare mai a casa l'ambita statuetta, e quindi anche in questo caso ovviamente non è l'Oscar che fa di un regista, un grande regista, anzi, tutt'altro. Procediamo con un altro regista che però l'Oscar a casa se l'è portato, ma per altre categorie, soprattutto la sceneggiatura, c'è da dire ed è Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, seppur appunto abbia avuto la possibilità di togliersi qualche soddisfazione agli Oscar, lui ha ricevuto per tre volte la candidatura a miglior regia, ma non ha mai portato a casa la statuetta, perlomeno, fino ad ora. È ovvio che stiamo parlando di un regista ancora in attività, anche se in teoria ancora per poco, dato che dovrebbe arrivare l'ultimo suo film in carriera, chissà che magari non sia quello in grado di regalargli la statuetta consacrando una carriera comunque ad altissimi livelli, eppure anche Tarantino, pur avendo ricevuto la candidatura per ben tre volte, la statuetta a casa non l'ha mai portata, e anche lui. Stessa situazione per un altro regista, tra l'altro più o meno, come dire, della stessa età di Quentin Tarantino, appartengono alla stessa generazione, ed è David Fincher. Un altro regista che in carriera la candidatura l'ha ottenuta per tre volte, e ricordiamo tra l'altro che David Fincher in carriera ha realizzato anche lui, fior fior di capolavori, tra la fine degli anni 90, gli inizi anni 2000, in realtà anche relativamente di recente, per quanto si sia un po' perso per strada negli ultimi tempi, ma anche David Fincher, che viene riconosciuto come uno dei registi più importanti degli ultimi 30 anni nel panorama cinematografico italiano, in realtà la statuetta come migliore regia non l'ha mai portata a casa. Tre candidature, zero vittorie. Quindi anche in questo caso è ovvio che non è la mancata vittoria dell'Oscar che va a ridimensionare un regista, per quanto, ripeto, probabilmente sono le sue ultime pellicole che vanno un po' a ridimensionare la carriera di David Fincher, nemmeno in realtà relativamente, perché i suoi più grandi film rimarranno sempre scolpiti nella memoria. Altro regista che non ha mai vinto un Oscar come migliore regista è Wes Anderson, che credo però abbia vinto l'Oscar in altre categorie. La categoria come migliore regia lo ha visto protagonista soltanto una volta, per Gran Budapest Hotel, però la statuetta in quel caso non è arrivata. Ora, ripeto, se non ricordo male, però Wes Anderson è coinvolto anche in altre categorie e in quel caso l'Oscar dovrebbe essere arrivato, magari ci riaggiorniamo qui sotto nei commenti, però anche lui rientra in questa sfortunata cerchia di artisti e di registi che pur avendo ottenuto una candidatura, nel suo caso, la statuetta in realtà non l'hanno mai portata a casa. Procediamo con quelli che sono gli ultimi nomi. Innanzitutto voglio citare quello che ho già citato poc'anzi, cioè l'erede spirituale, di Robert Holtman e cioè Paul Thomas Anderson, autore di film uno meglio dell'altro probabilmente perché anche lui in carriera di film pessimi non è mai realizzati, di film non riusciti non è mai realizzati, probabilmente non saprebbe realizzarli neanche mettendosi di impegno. Paul Thomas Anderson, che chiaramente è un regista ancora in attività, quindi la possibilità di togliersi qualche soddisfazione ancora ce l'ha, però al momento lui ha ricevuto tre candidature alla miglior regia senza ancora mai aver vinto neanche una statuetta per la migliore regia. Ripeto, quindi anche nel suo caso un po' come anche per Wes Anderson c'è da dire, Finch e Tarantino, la carriera potrà andare avanti e quindi potrebbe ancora esserci spazio per qualche soddisfazione. Procediamo con il terzo ultimo nome, il terzo ultimo cognome per meglio dire, perché? Perché stiamo parlando di un altro grande maestro di cinema, io credo che qui si possa tranquillamente parlare di maestro di cinema, un regista che ha realizzato davvero fior fior di capolavori, un regista tra l'altro che già dall'esordio si capiva di che pasta fosse fatto, sto parlando di Sidney Lumet il quale, ricordiamolo, esordì con la parola i giurati, grande capolavoro davvero, quindi uno dei migliori esordi della storia del cinema, Sidney Lumet ha ottenuto in carriera quattro candidature come miglior regista ma anche lui la statuetta non l'ha mai vinta e ripeto, quello che ho già detto poc'anzi, per diversi altri artisti non è sicuramente la mancata vittoria di un Oscar che fa di Sidney Lumet un regista minore un regista inferiore ci mancherebbe altro l'avrebbe meritata tante tante volte probabilmente l'avrebbe meritata già all'esordio cinematografico appunto con quel gran capolavoro che era la parola ai giurati quindi anche lui purtroppo a bocca asciutta penultimo nome nome clamoroso c'è da dire perché? perché il penultimo nome è rappresentato da Orson Welles Orson Welles ha ricevuto solo una candidatura tra l'altro come miglior regista tra l'altro per quella che è la sua pellicola d'esordio e diciamo che la situazione è molto simile a quella di Sidney Lumet perché? perché l'esordio di Orson Welles coincide con quello che in tanti definiscono addirittura il miglior film della storia del cinema e io potrei anche essere d'accordo cioè quarto potere lui ha tra l'altro come dire rinnovato il cinema lui ha rinnovato anche il modo di intendere la regia cinematografica con quel film permettendo quindi avendo la possibilità più che altro di ottenere la candidatura eppure la vittoria non è arrivata e non sarebbero arrivate tra l'altro neanche più delle candidature per Orson Welles alla migliore regia e stiamo parlando ripeto di un regista che ha rivoluzionato il cinema che ha rivoluzionato il modo di intendere la regia insieme a tanti altri chiaramente nel corso degli anni ma anche lui purtroppo la soddisfazione di vincere la statuetta non è stato mai in grado di togliersela quindi anche per lui c'è da fare lo stesso discorso chiudiamo in super bellezza c'è da dire o in bruttezza dipende dai punti di vista perché perché l'ultimo nome che appunto mi sono voluto riservare alla fine di questo elenco è quello del maestro Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock in carriera ha ottenuto cinque volte la candidatura agli Oscar e un po' come ho detto anche per altri registi qualunque film di Alfred Hitchcock soprattutto da un punto di vista registico è da studiare nelle scuole di cinema anche per lui vale lo stesso discorso che non ci sono film brutti Alfred Hitchcock può avere realizzato qualche film un po' meno riuscito rispetto ad altri questo sì ma qualunque pellicola di Alfred Hitchcock è davvero oro colato per chi vuole anche studiare regia eppure Alfred Hitchcock ha ottenuto cinque volte la candidatura come miglior regista eppure i membri dell'Academy non hanno mai considerato neanche vagamente l'idea di consegnargli la statuette di farlo vincere quindi cinque candidature zero vittorie anche per Alfred Hitchcock quindi chiudiamo in bellezza o in bruttezza a seconda dei punti di vista questa carrellata questo gioco chiaramente scherzoso per quanto riguarda la cerimonia degli Oscar e per quanto riguarda soprattutto i registi che non sono mai stati in grado di togliersi una soddisfazione completa per quanto riguarda la vittoria agli Oscar per quanto io tra l'altro ricordo sempre che comunque ottenere una candidatura è già di per sé una soddisfazione perché significa comunque avere ricevuto il applauso e avere ricevuto l'apprezzamento di colleghi soprattutto quindi poi la vittoria sarebbe stata la cilegina sulla torta però già avere ottenuto la candidatura può essere fonte di soddisfazione però è anche vero che per alcuni registi tra quelli che vi ho elencato è davvero stranissimo che la vittoria non sia mai arrivata però ripeto è un gioco ci permette di avvicinarci appunto stemperando un po' anche l'entusiasmo generale per quanto riguarda l'arrivo della rassegna degli Oscar fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente voi degli Oscar in generale degli Oscar alla migliore regia fatemi sapere che cosa ne pensate degli artisti che vi ho elencato in questa carrellata chi secondo voi avrebbe meritato maggiormente scusate di vincere la statuetta come migliore regia appunto tra gli artisti che vi ho elencato tutto qui sotto nei commenti come sempre vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo fondamentale davvero se volete aiutare il canale a crescere ancora di più iscrivetevi è un gesto semplice rapido che non vi costa nulla quindi cliccate sul tasto iscriviti cliccate sulla campanella se volete supportare questo video farlo arrivare a quante più persone possibili lasciate un like commentatelo condividetelo e poi vi ricordo che vi aspetto anche nella mia pagina instagram nella mia pagina facebook nel mio canale telegram trovate i link qui sotto in descrizione noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale io come sempre vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti